Buonasera a tutti, questa sera, poco prima di una consegna, voglio farvi vedere alcuni articoli stupendi. Ci tengo particolarmente perché per me hanno del magico. Sono dei blocchetti adesivi personalizzati. Blocchetto 75 x 75 mm da 50 fogli. Guardate bene che ogni foglio è personalizzato perfettamente su ogni pagina. Questi articoli sono stati realizzati da un nostro noto cliente, una realtà importante immobiliare, Mackelly Group. Sono stati realizzati con la nostra nuova e-commerce, quindi prenotati e configurati con l'e-commerce giallonote. Vi aspetto tutti per configurare il vostro articolo. Si possono realizzare diversi formati con diverse caratteristiche, con più o meno colore di stampa, quindi la gamma è veramente vasta. Nel caso specifico sono 500 pezzi realizzati da Mackelly. Ci compongono di due scatole da 250, scatole fatte molto bene, riempite fino all'orlo, proprio con le stampe proprio rivolte verso l'alto, per dare importanza e un senso di ordine al lavoro svolto. Grazie.